il frontman dei maneskin provocatorio su instagram lazza commenta stai sempre ca asterisco asterisco o all'aria i fan temono scintille tra i due scherzo o scintille quelle tra damiano david frontman dei maneskin e lazza rapper e finalista della passata edizione di sanremo a gettare i fan nel dubbio è il commento che l'artista milanese ha scritto sotto una foto postata dal cantante romano stai sempre ca asterisco asterisco o all'aria o le parole di lazza se la maggior parte degli utenti ha considerato il tutto come un semplice scherzo non manca chi ritiene che tra i due artisti possa nascondersi della tensione la foto in questione pubblicata su instagram ritrae damiano david senza abiti sul letto con quello che sembra essere uno spinello in bocca la descrizione in inglese dice il tour è finito questo vuol dire che potrò stare tutto il giorno nudo a fumare canne la sua band d'altronde è appena rientrata a roma dopo un tour europeo che la vista protagonista continuando a riscuotere enormi successi internazionali a distanza di due anni dalla vittoria dell'eurovision tanti sono i commenti di stupore da parte degli utenti molti dei quali espressi attraverso gifs specialmente quelli del pubblico femminile visibilmente in estasi non mancano poi reazioni al già citato commento di lazza molti utenti hanno risposto al rapper in maniera divertita apprezzando quella che viene interpretata come una battuta altri commenti invece sembrano essere meno ironici fa bene prova anche te scrive un utente prendi esempio continua un altro grazie a tutti